Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo insieme tutte le ultime novità. Il 27 febbraio verranno assegnati Cesar 2010 gli Oscar francesi. A contendersi il Cesar come miglior film ci sono già tre titoli in concorso a Cannes, Il Profeta, Gli Amori Folli e All'Origine. Il film Coca-Van Chanel invece riceve 6 nomination, tra cui la candidatura come miglior attrice per Audrey Tattoo. Brutta tegola per gli amanti di Tolkien. Hobbit non ha ancora una data di uscita. La Warner Bros. rende infatti noto che Hobbit potrebbe uscire non prima della fine del 2012. Il film sarà girato da Del Toro. Gli appassionati dell'horror italiano sono ancora in attesa di una data d'uscita di So 6, ultimo capitolo della famosa saga Ferma da Noi al numero 5. So 6 è uscito ad ottobre negli States, dove è incassato 45 milioni di dollari dopo esserne costati 11. Vi lascio con il trailer di oggi. Ferma da Noi al numero 5. So 6 è uscito ad ottobre negli States, stati e montazo in Italia. I am la mia connessione. Vi lascio con il trailer di oggi. So 6 è uscito ad ottobre negli St. a parà eags caos i dei vannieari. Ma connessione castทie. Chiara! Chiara! Chiara... Chiara! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti